Musica Benvenuti nella mia gliuteria, sono Mauro Gaudenzi e costruisco chitarre acustiche ed elettriche su misura. Ogni strumento che creo è risultato di anni di esperienza, passione e attenzione ai dettagli. La mia passione per la musica e per il legno ha dato vita al mio desiderio di costruire chitarre. Ogni strumento che creo deve poter creare un legame col musicista e accompagnarlo per tutta la vita. Questo è il cuore del mio lavoro. Ogni chitarra che costruisco inizia con la selezione dei migliori materiali. Solo i legni più pregiati, l'hardware di alta qualità e l'elettronica più avanzata entrano nei miei strumenti. Questa attenzione ai dettagli è ciò che permette di creare strumenti con una risposta sonora eccellente e suonabilità confortevole. Musica Musica Ogni fase del mio processo, dalla progettazione alla realizzazione, è focalizzata sulla creazione di chitarre che combinano design innovativo e suonabilità eccellente. Musica Mi ispiro molto alla tradizione, mantenendo linee classiche che rendono i miei strumenti riconoscibili e familiari. Utilizzo materiali di alta qualità e tecniche precise per garantire che ogni chitarra sia non solo funzionale ma anche visivamente attraente. Musica Ho migliorato continuamente i miei strumenti grazie alla mia stretta collaborazione con tantissimi musicisti. Ascoltando le loro esigenze e risolvendo le problematiche che incontrano. Musica Il mio obiettivo è che ogni chitarra che esce dalla mia bottega possa trovare il suo perfetto partner musicale. Musica Ho sempre cercato di migliorare continuamente i miei strumenti rendendoli non solo esteticamente belli ma anche con un'ottima risposta sonora e dinamica. Musica Musica Le mie chitarre sono destinate a migliorare nel tempo diventando parte della vita del musicista. Il risultato è uno strumento che non solo suona bene ma è anche bello da vedere e da toccare. Musica 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 Ogni chitarra è unica e riflette la mia dedizione e la mia passione per la musica e la liuteria. Musica 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 Grazie per aver seguito questo video se siete interessati a saper di più sulle mie chitarre o a discutere sulla creazione di una chitarra su misura per voi vi invito a visitare il mio sito o a contattarmi direttamente il mio obiettivo è creare strumenti che raccontano una storia che rispondano alle vostre esigenze e accompagnino la vostra musica